Ciao, sono il Gambero Italico. Dietro di me scorrono le fresche acque del fiume Tirino. Qui è nato il glorioso guerriero di Capestrano. Per millenni abbiamo vissuto insieme in questo territorio. Grazie all'istituto Giuseppe Caporale di Teramo sto tornando a casa e tanti altri gamberi torneranno a popolare le dolci e trasparenti acque del Tirino. Aiutaci a realizzare questo sogno, a fare un passo in avanti. Devolvi il 5x1000 all'istituto Giuseppe Caporale di Teramo. Grazie. Programma di ricostruzione del territorio aquilano colpito dal sisma.